Nella video-elezione di oggi parleremo dei moti del 1820 e 1821. L'organizzazione che era uscita dal congresso di Vienna, voluta fortemente dal Metternich, prevedeva il ritorno dei sovrani o dei loro discendenti sui troni, quei sovrani spodestati dal Napoleone e prevedeva anche per certi aspetti la cancellazione non tanto di un'epoca napoleonica quanto anche delle idee che questa epoca napoleonica aveva portato e su questo aspetto vedremo come il congresso risulterà essere stato un fallimento totale e completo. Fatto sa che la macchina organizzativa del congresso di Vienna aveva previsto il ritorno dell'assolutismo in tutta l'Europa e anche un moto soccorso da parte di queste nazioni laddove fossero scoppiati dei pericolosi moti rivoluzionali. La nostra storia comincia dalla Spagna ma prima di vedere i moti scoppiati appunto in Spagna nel 1820 dobbiamo fare un passo indietro. Qui in Spagna era ritornato sul trono al potere Ferdinando VII di Borbone il quale aveva restituito la nobiltà gli antichi privilegi, riaperto il tribunale dell'inquisizione e fatto condannare all'esilio gli uomini che avevano collaborato con Giuseppe Bonaparte. Nonostante quindi questo preciso programma di ritorno a un assolutismo spietato sarà proprio in Spagna che scoppieranno i primi moti di questo bienio 1820-1821. I moti scoppiano il primo gennaio del 1820 a causa dell'insurrezione delle truppe a Cadige pronte per partire per il Sud Medica, per le colonie. il famoso pronunciamento nel quale il colonnello Raffaele del Riego chiese che venisse ristabilita la Costituzione di Cadice del 1812 e Ferdinando VII si vide costretto a concedere questa Costituzione del 1812. Poi nel 1822 l'Alleanza decise, decretò che l'esercito francese dovesse intervenire per sedare questo pericoloso focolaio rivoluzionario e la Costituzione fu abolita e si ritornò a un regime assolutistico, estremamente spietato. Ma noi dobbiamo parlare ancora di quello che è successo nel resto d'Europa e in particolare dobbiamo parlare dei moti che sono scoppiati in Italia. La situazione italiana è una situazione molto particolare perché i moti rivoluzionari scoppiati nel bienio nel 1820-1821 furono organizzati da società segrete, coadiuvate anche da alcuni generali come nel caso di Guglielmo Pepe o ufficiali dell'esercito come Santorre e Santa Rosa che in qualche modo vedevano la possibilità di una riforma della forma dello Stato non più una monarchia ma una monarchia che poi vedremo costituzionale e quindi diversa. Le idee che erano la base di questi moti rivoluzionari erano delle idee liberali di un appunto partito liberale molto forte non soltanto nel Piemonte. Ma i moti rivoluzionari sono anche lo specchio da una parte della capacità di intervento della Santa Alleanza che vedremo interverrà in maniera molto molto precisa e purtroppo decisa contro questi patrioti e dall'altra parte metterà in luce le difficoltà del movimento indipendentista italiano difficoltà che noi riscontreremo ma anche di qui a una decina d'anni e anche in altri momenti cruciali dell'Ottocento. Ma caliamoci direttamente nei fatti i moti appunto del 1820-21 riguardano tre zone della cosiddetta penisola italiana il Regno delle Due Sicilie il Piemonte e il Lombardo-Veneto con caratteristiche differenti. Cominciamo dal Regno delle Due Sicilie. Nel Regno delle Due Sicilie il 2 luglio del 1820 dopo che arrivavano notizie di quanto si è successo in Spagna il generale Guglielmo Pepe prova a organizzare un'insurrezione per liberare appunto Napoli. tutto nasce da appunto i sottotenenti Morelli e Silvati che occupano la città di Avellino e il 7 luglio Ferdinando I a Napoli concesse quella che chiameremo la Costituzione di Cadice cioè questa Costituzione molto liberale. Ma che cosa succede? Nelle giornate tra il 14 e il 16 luglio dello stesso anno insorge anche Palermo e la Sicilia. Perché insorge Palermo e la Sicilia? Immaginiamo per le stesse ragioni di fondo che avevano portato la campagna, l'attore campagna per Napoli a ribellarsi. Ma in Sicilia c'erano altre ragioni e cioè il desiderio di autonomia un desiderio di essere indipendenti da questo regno delle due Sicilie. Quindi oltre che l'istanza di liberazione e quindi rivoluzionare c'era anche una fortissima istanza di autodeterminazione, comunque di autonomia. E questa insurrezione della Sicilia dura per molto tempo tanto è vero che appunto nel gennaio del 1821 Ferdinando I chiede l'intervento dell'Aus. E all'inizio del marzo del 1821 l'esercito sferico sconfigge l'esercito rivoluzionario napoletano. Ferdinando I attua una feroce repressione ritornando cioè a quelle caratteristiche specifiche del suo regno, cioè dell'assolutismo così come deciso nel congresso di Vienna. Spostiamoci in Piemonte e facciamo un passo indietro rispetto al marzo 1821. Qui Santorre e Santa Rosa stava provando anche con il coinvolgimento della monarchia sabbauda a portare a termine un piano abbastanza ambizioso cioè l'idea non solo di una riforma della forma dello Stato cioè verso la monarchia costituzionale ma addirittura un tentativo di coordinarsi con i patrioti Lombardi e Veneti per dare vita a uno Stato italiano del Nord. e Santorre e Santa Rosa coltivò l'idea che questo piano potesse in qualche modo vedere coinvolta la monarchia sabbauda. Quando nel marzo 1821 che appunto l'esercito austriaco era intervenuto contro i patrioti a Napoli ecco che Santorre e Santa Rosa pensava che quello fosse il momento opportuno perché con l'aiuto appunto dell'appoggio da parte della dinastia sabbauda muovere guerra contro l'Austria e abbiamo detto il marzo 1821 sembrava il momento adatto per portare avanti questo disegno. Ma le cose andarono in maniera un po' particolare perché è vero che il 10 marzo 1821 cominciarono i modi istruzionali in Piemonte i patrioti si ribellarono insomma tutto cominciò ad Alessandria poi si estese velocemente in tutto quanto il Piemonte ma dall'altra parte dobbiamo notare molta ambiguità da parte dei regnanti sabbaudi perché Vittorio Emanuele I abdica di fatto lasciando un voto di potere perché indica come suo successore Carlo Felice ma Carlo Felice in quel momento non è Torino e quindi in assenza di Carlo Felice viene nominato reggente Carlo Alberto Carlo Alberto era un personaggio propenso aperto verso idee liberali idee più moderne Santorri e Santa Rosa pensava che con Carlo Alberto fosse arrivato il momento fondamentale per poter finalmente passare dalla teoria alla pratica quindi realizzare quello che era il suo piano Carlo Alberto infatti di fatto concede anche la Costituzione di Cadice quella spagnola una Costituzione sicuramente molto più liberale non sappiamo fino a che punto concessa perché in qualche modo pressato dai patrioti ma comunque la Costituzione fu concessa anche se immediatamente Carlo Felice cioè il vero re del trono sconfessò questo atto del reggente Carlo Alberto e l'esercito austriaco non mise altro tempo davanti capendo che questo moto poteva essere particolarmente pericoloso e così interviene contro la rivoluzione piemontese sconfigge l'esercito di rivoluzione piemontese e Carlo Felice quando finalmente riuscirà a tornare a Torino revoca la Costituzione data da Carlo Alberto e instaura il regime così come era precedentemente certo le condanne furono miti spesso rivolte a persone già in esilio però di fatto anche i moti in Piemonte non ebbero i risultati attesi da parte di chi appunto li aveva organizzati ci spostiamo in Lombardo Veneto perché qui intorno alla rivista il conciliatore si erano riuniti una serie di intellettuali che non soltanto provavano appunto a conciliare idee di letteratura quindi idee che avevano a che fare con il nuovo movimento romantico e provavano a conciliare queste nuove idee romantiche con il classicismo tipico della penisola italiana ma intorno al conciliatore c'erano anche idee politiche particolarmente interessanti in quella appunto di una monarchia costituzionale cioè una riflessione su una possibile nuova forma di governo seppure ancora con l'aiuto della monarchia quindi in un contesto comunque monarchico in questo caso si segnalano due persone per quanto riguarda l'aspetto più strettamente di idee politiche Pellico Silvio Pellico e Maroncelli Lombardo Veneto era sotto diretto controllo dell'Austria e qui bastò all'Austria un intervento da parte della sua polizia per reprimere queste idee l'Austria